In provincia di Teramo Ed è partita la prova, la gara per lì Ragazzini 05 anni, ovviamente l'applauso sarà per tutti Per tutti, ma che brava questa ragazzina che la vediamo in la primissima posizione Sicuramente, sicuramente, brava Marta Brava Marta, brava Giorgia Gravata, piegiamolo signora Dada, io non ho tempo di vantaggio con ventone grandi, ma mia, mi sono scopitata Dada, 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 dada dada, 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 dada No, 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 no! Bravissima, bravissima E sei stato bravo, sei stato bravo Bravissima, bravissima Bravissimo! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.